Vuel Fan Zone vuole ricreare una zona di tifo organizzato, sistematico e riconoscibile all'interno del Palace Sport. Quindi l'obiettivo è questo, di ricreare qualcosa di entusiasmante e di attraente all'interno del Palace Sport che porti un tifo propositivo e positivo a favore della squadra. Diciamo che vogliamo creare una zona del Palace dedicata a tifosi che vogliono tifare in maniera positiva per la squadra partendo molto sicuramente dai ragazzi, dai giovani, coadiuvati da una parte magari di persone un po' più esperte che magari hanno esperienze già precedenti con gruppi organizzati. Vogliamo creare una Vuel Fan Zone che abbia una presenza massiccia di ragazzini e ragazzine in età adolescenziale una sorta così di creare una nuova generazione di tifosi che abbiano come principio l'idea di fare il tifo in maniera sana molto a sostegno della propria squadra, senza maleducazione e che partecipi in maniera colorata e sonora a quelli che sono poi l'evento della partita. Questo ha sicuramente un'idea che è proiettata nel futuro, anche nel futuro si possa avere una curva che qui alla mia spalla è una curva dei settori K completamente piena di ragazzi che aiutano e fanno il tifo per la Vuel. Le tessere dovrebbero essere intorno alle 130-140 al momento, diciamo che il tetto massimo che ci siamo dati per il momento ovviamente poi si può rivedere la cosa, è di 200 tessere in questo momento, perché vogliamo una curva selezionata da un punto di vista di caratteristiche, da un punto di vista di tipo di tifo che vogliamo, un tifo a favore e non un tifo contro, un tifo educato, quindi vorremmo coinvolgere un numero di persone in questo momento diciamo limitato. 200 l'obiettivo, credo che nel giro di pochi giorni dovremmo arrivare all'obiettivo. La card della Vuel Fan Zone avrà per questa ultima parte della stagione 2021-2022, che quindi comprenderà le prossime sei partite, avrà un costo di 10 euro, quindi un costo assolutamente simbolico. Ovviamente sottoscrivendo questa card si avrà la possibilità di avere il diritto di prelazione per la zona che individueremo il prossimo anno come zona della Fan Zone e quindi in quel settore chi avrà questa card avrà uno sconto del 50% sul prezzo dell'abbonamento, 50% comprensivo già del costo annuale della tessera, che il prossimo anno sarà di 20 euro. Quindi per fare un esempio, quest'anno il settore K per gli adulti aveva un costo di 170 euro, il prossimo anno avrebbe un costo di 85 euro, già comprensivo dei 20 euro della card. Quindi l'abbonamento avrebbe un costo effettivo di 65 euro, con uno sconto di quasi 70% rispetto al prezzo di botteghino. Stessa cosa ovviamente per gli under 18, costo di 100 euro, che sarebbe un costo tutto compreso, card compresa, di 50 euro.